Signore e signori ci troviamo al nuovo di Castelfrentano per la seconda giornata di andata del campionato provinciale allievi, gara, c'è la Virtus Castelfrentano con la maglia giallorossa nuova e la Val di Santro, l'arbitro e signore Cotellessa della sezione Aia di Lanciano, ecco i nostri ragazzi con la nuova divisa, c'è la scelta del campo, si danno il saluto ai ragazzi, vanno a salutare le panchine avversari, dopo vi faccio la foto ragazzi, piazzatevi veloci veloci, piazzatevi per una foto, sopra sopra, è la foto del blocco di 11, bello veloce veloce, pure qua, ok piazzatevi per la foto, è bello, Cristiano, veloce veloce, facciamo la foto, che cavolo